Buonasera, finalmente ci siamo. Ho deciso la data e il luogo del grande raduno nazionale del prossimo anno. Siete pronti con le agende cartacee ed elettroniche? Il raduno nazionale di Mr. Nichilista si terrà sabato 6 giugno 2020. Dove? A Firenze. Dopo settimane e mesi di sondaggi, ho deciso di optare per Firenze. Ripeto, sabato 6 giugno 2020, raduno a Firenze. È un raduno nazionale. Che cosa vuol dire? Qual è la differenza tra questo raduno e gli altri? Gli altri raduni, come quelli che ho fatto a Bologna, a Milano, a Bari, sono dei raduni che ho organizzato circa un mesetto prima, per gli abitanti di quelle varie zone. Raduno nazionale a Firenze a giugno, 6 giugno 2020, significa che io ve lo propongo con 8 mesi di anticipo. Quindi tutti dal nord, dal centro, dal sud, dalle isole potete organizzarvi per venire. Mi piacerebbe ritrovarci tutti a Firenze, da tutte le parti d'Italia, voi che mi seguite, per un grandissimo incontro. Saremo in 20, saremo in 30, saremo in 50, saremo in 60. Non avete 8 mesi di tempo per pernotare un treno, un bus, per pernotare anche un alloggio. Chiaramente chi viene da molto lontano non può pensare di venire da Firenze da mattina a sera. Almeno una notte o due si deve fermare. Anch'io mi fermerò almeno una notte a Firenze. Poi deciderò se è una o due notti, ma dormirò lì. Quindi il giorno del raduno è sabato 6 giugno 2020 e durante tutta la giornata si terrà il nostro incontro. Poi siccome dormirò lì, poi anche il giorno dopo avremo possibilità di rivederci. Però facciamo che il raduno ufficiale è il sabato. Poi la domenica, per chi viene da lontano e rimane a dormire lì, ci si può di nuovo rivedere, anche la giornata successiva. D'accordo? Io creo già un gruppo Whatsapp con 8 mesi di anticipo, che chiamerò Raduno Nazionale 2020, in modo tale che già da 8 mesi prima ci possiamo radunare in questo gruppo e prepararci a questo grande evento, attendere insieme questo grande evento, intanto fare amicizia se ancora fra di voi non vi conoscete. Poi un gruppo che rimarrà anche dopo questo raduno. Chiaramente siccome io dormirò a Firenze, sabato sera, se qualcuno di voi vuole rimanere a dormire a Firenze e vuole prenotare insieme a me, io posso tranquillamente prenotare un appartamento o un quadrilocale per 4-5 persone e insieme a me possono venire altre 4-5 persone. Chiaramente non di più, perché non è che in una stanza o in un appartamento ci stanno 20 persone. Gli altri comunque possono prenotare per conto loro una singola o una doppia, se siete in due, in una zona di Firenze che sia abbastanza comoda. Vicino a Santa Maria Novella va benissimo, comunque ci sono i mezzi. Ovviamente per i dettagli, l'orario, cosa facciamo, abbiamo 8 mesi di tempo insomma. Intanto fate una cosa, contattatemi in privato se siete interessati, ma se siete interessati a venire. È ovvio che magari non avete la certezza di venire, mancano 8 mesi, però se davvero vi fa piacere questa idea e quindi siete disposti a fare tutto per venire, allora me lo dite, mi contattate in privato. Io vi invito nel gruppo WhatsApp dedicato al raduno nazionale 6 giugno 2020. D'accordo? E poi durante questi mesi alla fine arriveremo a decidere esattamente l'orario, comunque sarà dal mattino ovviamente fino a sera e anche per chi rimane a dormire il giorno dopo. Chiaramente chi è di Firenze e dintorni può tornare a casa sua e semmai il giorno dopo ritorna, non c'è bisogno di prenotare qualcosa. O anche chi è di Bologna o dintorni, Bologna-Fierenza è mezz'oretta di freccia rossa, qualcuno può anche tornare a casa e tornare il giorno dopo, ovviamente poi vi regolate voi. Comunque il raduno sarà sabato 6 giugno, poi io rimarrò anche il secondo giorno così, dato che qualcuno si farà magari un viaggio più lungo, abbiamo la possibilità di vederci anche più tempo. E chi dorme con me abbiamo la possibilità anche di trascorrere una nottata insieme in chiave consapevole. Quindi mi sembra di aver detto davvero tutto. Contattatemi su Whatsapp, sapete dove sono i miei contatti, qua sotto in descrizione e ditemi voglio entrare nel gruppo, sono interessato a Radio Nazionale e voglio entrare. Vi ripeto ancora una volta, sabato 6 giugno 2020. Segnatevelo in agenda perché non potete dire ha un altro impegno, non credo che abbiate nessun altro impegno per il 6 giugno. Segnatevi che siete impegnati con me, così se arrivano altri impegni, no non posso, sono già segnato per mister nichilista per il raduno nazionale. Chiaramente ancora non ci sono i treni su Trenitalia per prenotare, però man mano che passano i mesi, ogni tanto ho contato su Trenitalia o su Italo e appena c'è, vi prenotate il treno per sabato 6 giugno e l'ho pagata anche poco. Mentre per quanto riguarda l'alloggio, penso che ci sia già la possibilità di prenotare, se no comunque potete aspettare ancora qualche mese perché insomma basta prenotare anche tre mesi prima, non c'è bisogno di otto mesi prima. Intanto ve lo segnate in agenda, intanto è nel gruppo WhatsApp, d'accordo? Contattatemi in massa e soprattutto fatemi sapere qui nei commenti anche se vi piace l'idea e se verrete, d'accordo? Venite oppure no? Fatemelo sapere scrivendo io verrò, io farei tutto per venire, contemporaneamente se vi va ovviamente scrivetemi, vi invito nel gruppo WhatsApp. Ovviamente potete venire a Raduno di Firenze senza entrare nel gruppo WhatsApp, è facoltativo questo. A prestissimo e più avanti poi vi annuncerò anche le date degli altri raduni cosiddetti normali in giro per l'Italia, va bene? Ci vediamo poi domani per una nuova settimana di lezioni di vita. Vi ricordo, se volete supportare i miei video, il mio canale, i miei raduni, tutto quello che faccio, c'è anche la possibilità di donarmi mediante il mio sito Patreon www.patreon.com barra MrNichilista e con anche solamente un euro al mese potete aiutarmi a continuare a fare quello che faccio. Comunque per maggiori informazioni c'è il link nel primo commento www.patreon.com barra MrNichilista e vi ringrazio già in anticipo. Ciao a tutti, fatemi sapere se venite, mi raccomando. Adesso vado a creare il gruppo WhatsApp del Raduno Nazionale 2020, voglio un grande evento. Ma quello che conta ovviamente è sempre la qualità, non la quantità. Però se sarete numerosi sarà bello incontrarvi tutti. Ed è un modo anche per incontrarvi fa di voi. Magari da anni vi vedete nei commenti sotto i video, su Facebook, eccetera, però non vi siete mai visti. È un modo per incontrarci tutto ed allargare la nostra grande famiglia. Ok? Un abbraccio ad ognuno di voi, quelli che verranno e quelli che non verranno.